Presso il Teatro Antonio Di Iorio di Atessa si è svolto un interessante incontro e dibattito su un tema molto importante, convegno donne e lavoro oggi, difficoltà ed opportunità. È innegabile che per le donne, nonostante ci siano stati dei progressi anche a livello legislativo, ci sono ancora delle difficoltà e delle disparità rispetto ai maschi. A introdurre i lavori anche il Sindaco Cicchitti. Sì, questa sera abbiamo avuto un importante punto di incontro con le donne. Devo ringraziare l'associazione Inner Will che è l'aspetto femminile del Rotary International e che praticamente ha voluto organizzare, ci ha proposto questo convegno qui al Teatro Comunale Antonio Di Iorio per parlare della donna di oggi, delle opportunità di lavoro e le difficoltà per trovare occupazione. Abbiamo avuto diverse figure che hanno tenuto questo tavolo così importante questa sera. Dei dati molto importanti li abbiamo avuti dal direttore della Camera di Commercio, la dottoressa Sabella che praticamente ci ha rappresentato i numeri del mondo femminile della nostra regione, della nostra provincia, ma soprattutto di attesa che praticamente esprime numeri molto molto significative per il mondo femminile, come pure la professoressa Spedicato che praticamente ha tracciato un po' gli aspetti più profondi della donna nel mondo del lavoro, nella famiglia e tante altre figure che praticamente hanno rappresentato questa occasione. Le conclusioni sono state tali da riproporre in un immediato futuro un tavolo di lavoro per portare avanti un progetto appunto di pari opportunità e di occupazione nel mondo femminile. È stato evidenziato degli aspetti dove anch'io ho avuto modo di mettere in evidenza le difficoltà nei servizi e soprattutto nel pubblico dove da troppi e troppi anni non vi sono opportunità per creare nuove occasioni occupazionali attraverso forme concorsuali. Ecco, io credo che questa nostra società ha bisogno di rimettersi in gioco e di esprimere le professionalità che il mondo scolastico, come pure è stato evidenziato dalla preside, che la professoressa Cavaliere esprime ma che poi trova difficoltà appunto nel sfociare nel mondo dell'occupazione. Ecco, io credo che questi confronti sono utili, si devono fare per l'interesse generale di questa nostra società. L'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l'International Inner Will a Tessa Media Vallisangro ha organizzato materialmente questo convegno. Sara Cappellone è soddisfatta perché l'attenzione è stata alta dall'inizio alla fine con temi molto interessanti. Sì, abbiamo voluto precisamente organizzare un convegno dedicato alla figura della donna e del suo ruolo oggi nella nostra società. Quindi ringrazio l'Inner Will, nella persona di Anna Caporale, la dottoressa Elisa Tano, tutte le innerine, l'assessorato alla cultura che comunque è stato partecipe insieme a noi in questo progetto che non è un punto di arrivo ma è un punto di inizio perché vogliamo insieme cercare di lavorare affinché con il tempo possiamo constatare con mano qual è il ruolo della donna oggi. Il mio intervento è stato incentrato soprattutto sulle cariche che le donne ricoprono a livello istituzionale e amministrativo che ad oggi sono ancora scarse e soprattutto nella differenza che c'è tra l'essere elette e ricoprire un ruolo amministrativo o rispetto al fatto che essere elette vuol dire anche rappresentare a 360 gradi l'attività amministrativa e quindi contare nelle decisioni più importanti di un'amministrazione. Questo dipende anche molto dal ruolo di chi decide di scendere in campo fattivamente e attivamente nel mondo politico e oggi credo che sia arrivato il momento di prendere in mano la situazione e darsi da fare per essere presenti nei tavoli decisionali proprio perché ci lamentiamo spesso noi donne che non siamo contornate da una serie di servizi di utilità alla famiglia che ci possono permettere di lavorare più serenamente e quindi lasciare per esempio i nostri figli in dei luoghi sicuri e educativi quando noi siamo al lavoro proprio per questi motivi dobbiamo far parte dei consigli comunali delle amministrazioni pubbliche e di andare lì a contare tanto quanto gli uomini non perché noi siamo più brave ma perché insieme agli uomini siamo complementari nella decisione della vita pubblica e quindi anche se c'è una legge elettorale che impone oggi la presenza delle donne nelle liste elettorali addirittura c'è anche la doppia preferenza di genere per aiutarci a ricoprire determinati ruoli e da donna non di certo sono felice che è dovuta essere c'è dovuta stare una legge per fare in modo che questo avvenisse mi sarebbe piaciuto certamente che la società da sola con una certa consapevolezza riusciva a maturare la possibilità che le donne dovessero far parte di alcuni contesti politici ma siccome questa legge c'è è il caso che davvero sentiamo prima di tutto noi e facciamo scattare in noi una certa motivazione al cambiamento quindi io credo che questo convegno oggi sia stato proprio un'opportunità per comprendere che non bisogna mollare e tutto si può fare certo la parola d'ordine è organizzazione Anna Caporale da un anno è presidente dell'International Inner Will da un anno perché un anno ha questa associazione qui nella nostra zona della Val di Sangro da un anno a questa parte avete organizzato tanti eventi questo è l'ultimo e sicuramente ce ne saranno altri da qui a qualche mese vero? Sì, grazie, buonasera io sono la presidente dell'Inner Will e l'Inner Will è un'associazione che è nata nel 1924 quindi da moltissimi anni in Inghilterra e poi si è ramificata in tutto il mondo solo da un anno voglio dire si è costituita qui nella città di Atessa è un'associazione completamente femminile e quindi pone attenzione fondamentalmente a quello che è il ruolo della donna oggi questo convegno è stato realizzato proprio ponendo l'attenzione alla donna la donna nel mondo lavorativo la donna quindi in base alle opportunità e alle difficoltà che incontra tutti i giorni proprio nel mondo del lavoro e abbiamo avuto illustri personaggi che sono venuti oggi a dare le proprie testimonianze e anche personaggi illustri che sono venuti ad apportare voglio dire le loro idee come ad esempio la sociologa Eide Spedicato e per noi è stato un grande un grande successo e siamo contenti di questa giornata e questa giornata è solo l'inizio di un progetto che vogliamo portare avanti nel corso degli anni ed è proprio quello di dedicare un'attenzione alla donna la donna come condizione sociale e come benessere della donna perché poi la donna rappresenta la madre la figlia la moglie rappresenta quello che il nostro è un progetto